ma insomma una bella festa sorpresa 90 anni non solo lavoro di assicuratore ma anche il cuore nella maurina nell'atletica si sono stato sette anni sono stato presidente della maurina si abbiamo fatto delle belle cose avevamo un gruppo di amatori che non ce l'aveva non c'era in tutta italia non c'era un gruppo così e poi i ragazzi i ragazzi tanti bravi che poi sono venuti fuori anche se gli istruttori istruttori e sito giovane paulino giovane saglietto tutti calzamiglia ma la tutti bravi a tutti tutti bravi bravi insomma bei tempi bei ricordi e oggi si ritrovano questi ricordi anche negli regali ho visto delle fotografie dei libri e se ci eravamo si avevamo c'è un po di tutto